Gennaro Arma, classe 1975, è stato definito l'eroe italiano, il comandante eroe, perché come tutti ben ricordate è il comandante della Diamond Princess, la nave ferma a Yokohama per via del Covid ed è stato proprio l'ultima ad abbandonare la nave. La cosa che mi ha colpito il comandante che appena è uscito dagli arrivi dell'aeroporto col suo troglio ha dichiarato io non sono un eroe, ho fatto solo il mio lavoro. Salve, sì, decisamente l'ho affermato in quel lontano 16 marzo, continuo a crederlo e ad affermarlo adesso, ho semplicemente fatto il mio lavoro come tante persone stanno facendo in questi giorni, in questi momenti difficili, con professionalità e con semplicità. Tutti i nostri telespettatori vorranno sicuramente sapere cosa ha provato in quei giorni, cosa si prova a essere lontani da casa e soprattutto con questo Covid che ancora a quei tempi è ancora più nascosto. Bene, in quei giorni chiaramente il mio pensiero era focalizzato alla situazione di bordo, ai passeggeri, all'equipaggio, a cercare di tenere la situazione sotto controllo e raggiungere la meta. Pensavo alla famiglia, a casa e magari anche a tutto ciò che loro stavano affrontando, però l'essere impegnato in quei giorni in maniera abbastanza sostanziosa ha fatto sì che i miei pensieri fossero semplicemente concentrati al lavoro. Un lavoro che l'ha portata appunto a lasciare la nave per ultimo, però una curiosità me la deve togliere comandante. Una domanda che sicuramente non gli ha fatta mai nessuno fino a oggi, nonostante le tantissime interviste, ma la chiave della nave l'ha lasciata al custode del porto? Effettivamente è una domanda che non mi aveva mai fatto nessuno. La chiave non esiste a bordo della nave, abbiamo semplicemente ridotto la quantità di energia che c'era in giro e poi sono uscito dalla nave. La chiave è rimasta lì. E' per questo che è stato premiato, non perché non c'è la chiave, ma perché il suo impegno ha colpito molto, tra cui il sottoscritto e non solo, e quindi è giusto questo premio San Michele d'Oro 2020 di Castiglione Fiorentina. Di cui vado molto fiero, sono veramente onorato e ringrazio il sindaco e il comitato per questo premio, un premio che appunto rappresenta la voglia di combattere, di cui tutti abbiamo bisogno in questi giorni. Grazie a tutti.